Ciao amici ben ritrovati siamo alla seconda parte quindi con i primi passi oggi andremo a imparare come si crea una tabella, come si è formata questa tabella capiremo anche come collegare questa tabella da un database all'altro e poi daremo un accenno della scomposizione dei dati quindi come si va poi a modellare il nostro database non scenderemo troppo in dettaglio su questa parte qui perché la prima parte della masterclass, quindi questa masterclass che vi ho presentato tratterà proprio la trasformazione del dato, il potersi collegare da origini esterne arrivare poi ad avere un risultato che poi deve essere disponibile per il frontend in cui andrete a creare di report quindi nella prima parte io non vado a spiegare come si crea una maschera quindi do solo un accenno poi quando continuerò con questa masterclass ed andremo ad integrare anche la parte di maschere andremo ad approfondire un po' meglio anche perché poi qui facciamo proprio dei database veri e propri in cui facciamo un sistema di backup piuttosto che un sistema ciclico e qualsiasi altra cosa poi vorrete inventarvi avete le basi per farle tutte quindi bene, partiamo subito allora andiamo ad esempio sulla nostra cartella, una cartella qualsiasi facciamo tasto destro sul bianco, quindi non sul file ma sul bianco facciamo un nuovo e qui li diciamo Microsoft Access così creiamo un database, vedete si crea direttamente su questa folder si invece premo su Access in basso e poi crea un nuovo ok si apre la Finestream e mi dice dove lo voglio memorizzare è un po' più lungo, io di solito faccio sempre tasto destro nuovo Microsoft Access Database poi qui li diciamo ad esempio un nome e lo chiamiamo test perfetto, apriamo questo database ok, allora eccoci qua su questo database, facciamo così se vogliamo creare una tabella nuova, ok basta andare nel menu Crea e qui ci sono due sistemi il primo è Tabella e lui si crea si apre questa cosa qua dove lui mi crea un campo ID in automatico che potrebbe non servirci e poi lui qua ci dice di scrivere, quando facciamo un click dall'altra parte ci aggiunge il campo con un nome se poi faccio doppio click sul testo del campo ci posso dare anche il nome e lui qua sulla sinistra mi crea il nome della tabella Tabella 1 che poi ovviamente potete andare a rinominare se poi ad esempio vi fate click sul bottone salva che sta qua su in cima a sinistra andate effettivamente a salvarla allora questo è un sistema che a me non piace tanto perché è un po' rudimentale non mi lascia fare lavorare bene come nella parte struttura perché poi anche facendo click destro sul campo potete fare altre cose piuttosto che andare sulla tabella e avete altri pulsanti però a me non piace veramente tanto facciamo che usiamo il bottone crea e facciamo struttura tabella così qui abbiamo praticamente la visione di tutto quello che possiamo fare all'interno della nostra tabellina qui vedete partiamo completamente dal bianco quindi ad esempio gli diciamo nome e poi quando facciamo tab si va sul tipo dati poi sulla descrizione che vedete qui sulla destra è una descrizione che potete dare al campo se dovete ricordarvi perché o cosa fa questo campo qua però la parte interessante è il tipo di dati dove andiamo a dare il formato vedete se io clicco qua mi da diversi tipi di formato quindi devo capire se sto lavorando con un campo di tipo alfanumerico piuttosto che un numerico piuttosto che una data ora o piuttosto con altre cose ad esempio qui posso dire sì no avrò il flag che mi fa la spunta sì no piuttosto che ho dentro l'euro il dollaro o quello che è ok quindi qui abbiamo scritto nome quindi va benissimo testo breve però poi se andiamo in basso vedete troviamo altre proprietà quindi ad esempio sul formato sul testo ovviamente non esiste nessun tipo di formato qui dice che possiamo metterci 255 caratteri e qui dice se abbiamo consenti lunghezza 0 dopo vedete quando voi cliccate nella proprietà sulla destra cambia anche la descrizione quindi qui è un aiuto che vi spiega un po' ogni singola proprietà ovviamente adesso io non ve le faccio vedere tutto vi faccio vedere le cose principali altrimenti non finiamo più comunque diciamo che sul testo non c'è non ci sono grandi messaggi da andare a modificare poi andiamo ad esempio qua e mettiamo età ok e qui ad esempio gli diciamo che deve essere un numerico ad esempio poi c'è anche il testo lungo che ovviamente vi permette di scrivere più di 255 caratteri ok facciamo il numerico perfetto il numerico vedete sul dimensione campo questo si è importante qui vi dice che tipo di numero andate a inserire qui quindi se è un intero lungo quindi per l'età va benissimo perché non abbiamo decimali però se ad esempio avessimo decimali dovremmo andare qui ok qui ad esempio dato che l'età è comunque da 1 a 100 possiamo mettere l'intero così occupa meno spazio poi nel database se facciamo un intero lungo ovviamente occupa più spazio perché può gestire numeri e se non ricordo male superiori a 30 a 4 mila adesso non mi ricordo più molto bene ma comunque può gestire i numeri ben più grandi dell'intero precisione singola precisione doppia allora se io uso il decimale di solito metto sempre la precisione doppia che è il migliore poi il formato anche qua vedete potete scegliere il formato potete far vedere la valuta l'euro se mettere un numero standard quindi volete vedere il puntino come separatore di migliaia poi la virgola sui decimali piuttosto che non volete il separatore di migliaia e poi la virgola conviene sempre lasciarlo in generico quindi se non lo specificate lui prende il generico quindi niente separatore di decimale perché poi quando andate a fare l'esportazione in csv magari dopo lo caricate anche su un sigo servo oppure comunque lo leggete da excel il puntino potrebbe sempre dare un po' fastidio piuttosto che è un numero in percentuale quindi qua gli date proprio il formato sapete che appunto ripeto numero generico se non ho specificato niente lui mette il numero generico quante posizioni decimali volete mettere? 1, 2, 3 dopo lui fa l'orottandamento con le regole matematiche comunque a noi qua va bene l'intero ok? qui è trascurabile perché ovviamente non compariranno e poi altre proprietà diciamo che queste erano quelle più importanti mettiamo anche la data compleanno facciamo compleanno ad esempio e qui ad esempio ci mettiamo appunto la data ora o data ora estesa noi va benissimo il campo data ad esempio qua gli diciamo che formato vogliamo vedere e qua gli diciamo come vogliamo che compaiera poi all'interno della nostra tabella noi mettiamo ad esempio il calendario standard quindi giorno, mese, anno quindi mettiamo qui così non compare l'ora e basta anche con la data non c'è niente altro da vedere poi facciamo anche ha fatto il compleanno sì no facciamo festeggia festeggia il compleanno facciamo così allora quei caratteri lì punti di domanda è sempre meglio non utilizzarli poi è sempre meglio anche non mettere spazi perché diventa molto più semplice poi lavorare con le query quando andate a fare delle formule altrimenti dovete usare le parentesi quadre per tutto quello che andate a fare e quindi è sempre meglio mettere degli underscore oppure dei trattini e qua li diciamo si no ad esempio vedete si no così noi faremo il flag perfetto anche qui ovviamente c'è la sua proprietà formato si no piuttosto che vero o falso piuttosto che on off ok quindi insomma queste cose qua poi ve le lascio approfondire in autonomia perché sono tantissime quando abbiamo finito si va sul dischetto che sta su in cima a sinistra si preme salva e qua li diamo il nome alla tabella e qua li diciamo bam compleanni anche qua cerchiamo sempre di evitare gli spazi bambini perfetto abbiamo fatto la nostra prima tabella adesso lui qua mi dice se voglio andare a definire una chiave primaria questa cosa qua non andate a definirla perché comunque noi andiamo a trasformare i dati è una cosa che ci andrebbe poi a fare quando si costruiscono delle maschere o delle cose particolari ma comunque trascurate questa cosa qua quindi gli diciamo semplicemente no perfetto lui ha creato la nostra tabellina praticamente se noi adesso andiamo qui e la apriamo e vediamo appunto che ci ha creato questa cosa qua e questo era il flag che vi dicevo prima qui c'è il compleanno che si aspetta di ricevere una data qui c'è l'età che si mette sempre un numero perché un campo numerico non può essere nullo e qui ad esempio ci scriviamo Lodovico ci scriviamo il mio nome poi ci mettiamo l'età ne ho 38 in questo momento e il compleanno vi dico anche il mio compleanno che così magari mi fate gli auguri quando ci arriviamo 1,9,8,2 e poi qua diciamo festeggia il compleanno sì, no ok io diciamo dai che lo festeggiamo e così via poi andiamo a capo vedete che qui c'è l'asterisco quindi significa che questo non è un record che esiste quando andiamo qui scriviamo una lettera ecco che si crea il record e qua compare il simbolo della matitina che sto editando questo record ok vedete e così quando io faccio clic su un altro record poi si memorizza qua giù abbiamo la barrina che ci permette di andare tra un record e l'altro ok in quest'altro pulsante andiamo all'ultimo record piuttosto che il primo e se abbiamo una tabella che ha tante righe senza starla a scorrere per arrivare a trovare questa riga qua che è in fondo premiamo direttamente questo bottone vedete ad esempio io mi seleziono sulla prima riga se premiamo questo adesso si posiziona subito sulla creazione del record piuttosto che volete fare una ricerca se non ricordo male vedete qui c'è la ricerca ho scritto 2 e lui mi ha cercato il 2 se ci scrivo DS vedete che lui trova il contenuto di DS con quello che c'è appunto qua giù perfetto quando voi aprite in struttura la tabella compare anche questi compaiono anche questi due menu contestuali dove potete andare a fare delle varie operazioni ad esempio potete andare a cambiare il formato del campo oppure fare altre cose io di solito questi menu contestuali non li uso praticamente mai a meno che non si vada a costruire maschera eccetera ma se no non c'è non c'è motivo di andare ad utilizzarli comunque qui è come si crea appunto la tabellina perfetto salviamo adesso ipotizziamo che noi vogliamo collegare questa tabellina qua in un altro database come si fa? allora ad esempio andiamo e facciamo un altro database facciamo test 2 ok quindi apriamo il secondo database per collegare la tabellina che è presente in questo database quindi per utilizzare anche la tecnica che vi spiegavo nella lezione precedente è molto semplice allora se faccio clic destro qui vedete compare questo menu se faccio clic destro sopra una tabella compare un altro tipo di menu vi vedete e qui vi permette di fare importa da e è una scorciatoia rispetto a quello che vi farò vedere adesso quindi quando avete degli oggetti ne basta anche uno solo fate clic destro sopra un oggetto così avete i comandi rapidi nel nostro caso partiamo da un database vuoto quindi facciamo da dati esterni nuova origine dati andiamo su database ok da access premiamo qua perfetto io gli dico importa i dati che ci sono nell'altro database oppure collegare noi facciamo collega qui facciamo sfoglie andiamo cerchiamo il nostro database che è questo qua test e facciamo ok perfetto quando noi diamo ok lui mi dice tutto quello che c'è dentro l'altabase in questo caso ci sono solo tabelle altrimenti comparirebbe anche la scheda delle query perché potenzialmente potrei scusate qui stiamo collegando dei dati quindi è giusto vediamo le tabelle qui selezioniamo ok attenzione quando selezionate ovviamente tutto quello che selezionate poi si collegherà nel database quando abbiamo selezionato la tabella che ci interessa premiamo ok e ecco che vedete che qui compare la freccetta se io entro in questa tabella ok e qua ci scrivo ddd e poi confermo se poi l'apro nella database originale ok non la vedo perché devo probabilmente chiudere la tabella ecco vedete che qui si è aggiornato il record e è comparso ddd quindi quando entrate qui e modificate ovviamente o premete salva in teoria no dovete proprio chiuderla e dopo ah no bastava anche salva perfetto così modificate l'origine e questo è il discorso che magari questo database poi lo utilizzate per fare le query e fare tutti i vostri processi perfetto abbiamo visto come collegare una tabella tra un database e l'altro adesso diamo un accenno alla modellazione allora qui c'è il north wind poi ve lo lo trovate in descrizione se lo volete scaricare è un po' complicato è il database ad esempio che dà la microsoft per imparare ad utilizzare access però attenzione se iniziate a studiarlo perché può essere anche un po' complicato quando si aprirà questa finestra qui chiudetela perché loro qui vedete hanno messo anche una maschera di lodging insomma per far fare quando fate il lodging ad esempio vedete compare un'altra serie di cose queste sono tutte maschere che costruisce appunto il database comunque la chiudiamo e qui vedete trovate tutta una serie di tabelle allora come si fa la modellazione la la scomposizione dei dati in un database di access in SQL in Excel in Power BI non è una cosa che si può insegnare con una regola fissa perché ogni volta che voi dovete andare a fare un lavoro sta alla vostra abilità riuscire a trovare il sistema migliore per fare la scomposizione del dato affinché poi riusciate ad elaborarlo sulla parte di frontend nel migliore dei modi quindi in questo caso in access se fate la scomposizione qua modellate il tutto poi congiungete i dati lo fate per poi far lavorare bene una maschera se la fate in Excel in Power BI dovete fare una modellazione poi per poi riuscire a lavorare bene con il DAX in modo da non fare formule enormi per ottenere un risultato piuttosto che avere tabelle enormi che magari sono difficili poi da calcolare diciamo che la cosa importante è sempre fare la suddivisione in modo da non avere ripetizioni di record perché ovviamente la ripetizione di record quando avete una quantità e la duplicate diventa un problema poi da gestire adesso vediamo qua qui c'è ad esempio la tabella degli order e qui ci sono sicuramente ordini che sono arrivati su questa azienda poi abbiamo anche l'order details quindi magari l'order detail ha un'altra composizione che dà un ulteriore dettaglio dell'ordine piuttosto che la tabellina anagrafica dei customer quindi abbiamo tutti i nostri customer e li elenchiamo tutti qua così poi attraverso le chiavi di congiunzione magari andiamo sull'ordine e vediamo il customer A quanti ordini ha prodotto se noi avessimo una tabellina unica avremo il customer A ok con tutte le sue informazioni anagrafiche che andrebbero ad esplodersi ogni volta che abbiamo un ordine che la tabella comunque starebbe in piedi fatta così perché effettivamente non abbiamo ripetizioni di quantità dell'ordine perché ripetiamo andiamo a ripetere record anagrafici quindi tutte colonne anagrafici però andiamo a ripetere a rendere ridondante l'informazione quando se la gestiamo su una tabella a parte ok la tabella degli ordini diventa molto più leggera perché appunto avendo magari un ID per collegarsi alla ecco probabilmente è questo immagino per collegarsi alla customer si entra con la customer e poi ci si tira fuori le informazioni alla bisogna di quello che serve magari la order ID ha la order sa dati di 5 anni di storia ok noi dobbiamo analizzare un mese ci estraiamo un mese poi andiamo in dettaglio in join in relazione con la tabella delle anagrafiche e ci tiriamo fuori le informazioni anagrafiche che ci servono questa è un po' la base della modellazione però veramente va ragionato di progetto in progetto non c'è assolutamente una regola precisa e universale che vi permette di fare questa cosa qua diciamo giusto per farvi vedere in access poi chiudiamo questa lezione se noi andiamo su strumenti database di questo database e premiamo relazioni compare sta po' di roba qua e vedete qui ci sono tutte le tabelle qua sulla sinistra e qui ci sono tutte le relazioni con vedete i campi ID che si collegano tra una tabella e l'altra vedete qui c'è un altro striscio se poi vi spostate adesso qua ce ne sono veramente tante quindi diciamo che queste sono tutte le relazioni vedete ogni tabella ha una sua logica di collegamento sono tutte linkate tra loro vedete magari vedete ecco per arrivare al purchase order e andare sul supplier c'è un solo collegamento però poi se voglio andare dal supplier e andare dentro sulla purchase order ok devo prima passare per la purchase order e poi posso andare a leggere le informazioni che stanno dentro qua devo fare questo giro qua bisogna sempre vedere se la cosa è compatibile e così via quindi questo è un po' il discorso di modellazione però veramente magari lo approfondiamo quando andremo avanti con la masterclass e andremo a approfondire un po' le maschere in ogni caso l'access io preferisco non utilizzarlo in questo modo come relazioni perché ormai i power query i power pivot sono avanti anni luce rispetto all'access perché permettono di gestire molti più dati poi lì c'è il DAX che è notevolmente più potente di quello che potrebbe offrire un access e così via comunque era giusto per farvelo vedere per farvi vedere che esiste anche questo angolino quindi diciamo che con questa lezione allora abbiamo finito come sempre se la risorsa è stata di vostro gradimento condividete il video sui vostri social magari metteteci anche una nota di quello che pensate lasciate un like al video se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo alla prossima lezione grazie a tutti per l'attenzione ciao 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 ciao